Il comune di Castellabate ha attivato uno sportello e un numero dedicato alla pronta assistenza per i cittadini che necessitano in questo periodo di emergenza sanitaria di assistenza domiciliare e di un concreto sostegno nel quotidiano. Nello specifico si tratta di un servizio completamente gratuito, gestito direttamente dall'ufficio Servizi Sociali dell'ente dedicato agli over 65, alle persone sole e a coloro che vivono in un momento di difficoltà economico o sociale. Il numero della pronta assistenza è 0974 960147 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e 30. Inoltre è possibile contattare lo stesso recapito anche in chat tramite WhatsApp. Il progetto sarà portato avanti in collaborazione con il COC, Centro Operativo Comunale, e con il prezioso supporto operativo delle associazioni di volontariato. Intendiamo offrire assistenza affinché tutti coloro che ne abbiano bisogno possano usufruire di supporto concreto, come la consegna a domicilio di spesa e farmaci, dichiara l'assessore alle politiche sociali Elisabetta Martuscelli. La situazione attuale ha inciso sulla tenuta complessiva del tessuto sociale, reso ancora più fragile durante la pandemia. Abbiamo per questo attivato una rete di supporto affinché nessuno si senta solo nell'emergenza.